ciao a tutti davito e nadia oggi vogliamo parlarvi di un piccolo gioiello che potrebbe fare la differenza nelle vostre avventure all'aperto nei vostri progetti di campeggio o semplicemente per ridurre la bolletta della luce sì avete indovinato stiamo parlando del pannello solare da 100 watt della all powers seguite questo video e scoprite insieme a noi tutti i segreti di questo dispositivo eccezionale prima di tutto diamo un'occhiata alle specifiche tecniche che rendono questo pannello solare un prodotto indispensabile per gli amanti dell'energia verde come abbiamo già detto ha una potenza massima di 100 watt una tensione a potenza massima di 18 vols una corrente a potenza massima di 5,56 ampere una tensione a circuito aperto di 22,4 vols e una corrente di cortocircuito di 5,8 ampere ha un'efficienza del 22 per cento le dimensioni del pannello sono di 51 cm per 65 con uno spessore di 30 mm quando è chiuso a valigetta mentre aperto misura un metro e 20 per 65 cm con uno spessore di appena 10 mm il peso è di circa 3,6 kg e il materiale è costituito da celle solari in silicio monocristallino con rivestimento in etfe nel box insieme al pannello solare troveremo in dotazione due cavi con connettori mc4 e una busta con adattatori da poter utilizzare per connettere il pannello a vari dispositivi il pannello solare da 100 watt dell'all powers è progettato per essere robusta e resistente grazie al suo rivestimento in etfe che lo rende anche impermeabile questo significa che non dovrete mai preoccuparvi di pioggia o polvere mentre lo state usando all'aperto le dimensioni sono piuttosto compatte per un pannello di questa potenza e il peso contenuto lo rende facilmente trasportabile grazie al suo pratico manico uno degli aspetti più interessanti di questo pannello solare la sua versatilità ecco alcuni dei modi in cui potreste utilizzarlo in campeggio escursionismo portatelo con voi nelle vostre avventure all'aria aperta e dite addio ai problemi di batteria scarica potrete ricaricare i vostri dispositivi elettronici come laptop smartphone o tablet energia di emergenza in caso di blackout questo pannello solare può essere una fonte di energia affidabile per mantenere accesi dispositivi essenziali come le luci a led e i caricabatterie vita da camper se siete appassionati di vita da camper il pannello solare or powers è perfetto per ricaricare le batterie del vostro veicolo la vostra power station è tutti i vostri dispositivi elettronici durante il viaggio progetti fai da te se siete amanti del bricolage e volete sperimentare con l'energia solare questo pannello è un'ottima base di partenza per i vostri progetti andiamo alle prestazioni la performance di questo pannello solare è davvero impressionante con un'efficienza del 22 per cento riesce a convertire una buona parte dell'energia solare in energia elettrica utilizzabile un altro punto a favore del pannello è la sua facilità d'uso non sono necessarie particolari competenze tecniche per metterle in funzione infatti basta posizionarle in un punto soleggiato collegare i vostri dispositivi alle porte appropiate e il gioco è fatto l'energia solare farà il resto analizziamo adesso i lati positivi e i lati negativi i lati positivi di questo pannello sono che è leggero compatto resistente e con un'ottima efficienza perfetto per diverse situazioni i lati negativi sono che in giornate molto nuvolose l'efficienza può calare un poco ma è del tutto normale per i pannelli solari un altro lato negativo è che purtroppo il pannello non è dotato di porte usb integrate o altri cavi di connessione per poter ricaricare anche batterie servizi in conclusione il pannello solare da 100 watt dell'all powers è un prodotto che combina efficienza versatilità e facilità d'uso che siate appassionati di vita all'aperto camperisti o semplicemente alla ricerca di un'alternativa ecologica per le vostre esigenze questo pannello non vi deluderà è un investimento che vi permetterà di sfruttare al meglio la potenza del sole riducendo al contempo l'impatto ambientale quindi preparatevi a catturare i raggi del sole e a trasformarli in energia con il pannello solare da 100 watt dell'all powers potrete acquistarlo accedendo al sito del link che troverete in descrizione dove troverete anche un codice sconto da poter utilizzare per il vostro acquisto la vostra prossima avventura vi aspetta e con questo pannello solare sarà sicuramente ancora più luminosa se questo video vi è piaciuto mettete un like commentate condividete e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale alla prossima